Aspetta, quanto era lui, era casato? No, gli ha detto P5, va all'inizio. Ci guardano tutti. Ciao Davide Vassecchi. Ciao ragazzi. Non urlare. Ciao. Fettel davanti alle clerche. Davide. Guardami. Buongiorno. Si, basta. La tua giornata guardavo una gara anche mia, no, di vent'anni fa, o guardavo il risultato. In quell'epoca lì finivano pochissime macchine. Finivano dieci al massimo. Mi ha stretto il braccio. Chi ti ha stretto il braccio? Aspetta che abbiamo uno scoop, ragazzi. Mi ha stretto il braccio. Forte, forte. Sembra le teenager. Ha voluto vedere la muscolatura di... Ma dove ti ha toccato? Non lavarti, eh? Sembra le teenager. Va bene, dai, si scherza. Scusa, ma anche io. Ma ti ha emozionato? Ha fatto una gran gara, Enrico. È stato il migliore dell'ultima giornata. Ho stretto il braccio. Davide, sei ancora lì? Andato. No, sono detto, no, mangiare un biscotto, Carlo. Scusami. Eh, biscotto come? Con le staglie di cioccolato come solo loro sanno fare. Chef tutti italiani, ragazzi. Eh, ecco. Grazie, Davide. Una a una, intanto, eh, Davide? Sì, Lucancu! Bravi! Beh, ti passo a dire una a una, Davide lui esplode, no? Alla prossima.